E' dolce sono i colpi di sua pace E' dolce sono i colpi di sua pace E' dolce sono i colpi di sua pace Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie a tutti! Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Sì, è stato uno dei favori di questa competizione. Penso che abbiamo un caso di un piccolo coltello che è diventato un diamantone. Ok, no vincere, ragazzi, Piers. Sì, sì. Amanda? Sì. Paul, you are through to the next round. I don't want to close my eyes, I don't want to fall asleep, cause I miss you baby, and I don't want to miss you. Congratulations.